Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero con due persone a bordo scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica nei cieli dell'entroterra cilentano. Il velivolo diretto in Calabria, Nicotera, era partito dal lago Trasimeno e precisamente dall'aeroclub di Cassione del Lago dopo aver partecipato al meeting di primavera, la festa dei piloti organizzata in Umbria. A rilevarlo per l'ultima volta è stato il radar dell'ENA vista allato sul Monte Stella in pieno Cilento, di qui il dubbio che l'ultraleggero possa essere precipitato sulla montagna cilentana e l'avvio delle ricerche. A battere palmo a palmo gli impervi sentieri del Monte Stella sono stati impegnati gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e due elicotteri di carabinieri aeronautica. In particolare le ricerche si sono concentrate tra i comuni di Perdifumo, Mercato Cilento e Laureana. Si cerca da ieri anche in mare con l'ausilio della Capitaneria di Porto in uno specchio d'acqua tra Capri e Sorrento. Pare infatti che l'ultimo messaggio inviato tramite WhatsApp da una delle persone a bordo del velivolo, che è anfibio e potrebbe dunque anche ammarare, sia partito proprio mentre questo sorvolava Capri. Secondo le informazioni raccolte il piccolo aereo, prima e cioè a Sabaudia, sarebbe anche atterrato per effettuare un rifornimento. Al momento non è nota l'identità delle due persone a bordo, anche gli organizzatori del meeting di primavera sono al momento all'oscuro di tutto e stanno cercando di verificare se effettivamente l'ultraleggero sia decollato da Castiglione del Lago. Per i voli sportivi da Di Porto, hanno dichiarato gli organizzatori al sito di informazione Umbro, tuttoggi.info, non vengono depositati piani di volo. Non siamo in grado di dire chi si sia diretto dove, una volta partito da qui e al momento non ci sono state date informazioni su nominativi di persone scomparse da poter incrociare con i nominativi dei nostri partecipanti.